Ciao sono Marco, vi racconto brevemente la mia storia. Io ho giocato a calcio per tanti anni nella mia vita, fin da quando ero bambino. Mi sono sempre divertito, fino a quando a un certo punto mi sono fatto male e mi sono bloccato per un paio di mesi. Dopodiché ho dovuto a tutti i costi rientrare il prima possibile per poi essermi rifatto male di nuovo. Da quel momento lì sono caduto un pochettino in depressione, ho avuto un po' di problemi di autostima, mangiavo tanto tanto tanto, non seguivo nessun piano di allenamento, mi sono fermato quasi per un anno e non mi vedevo bene. Quindi ho deciso che volevo cambiare le cose e rimettermi in forma. Ho conosciuto Giuseppe, mi ha dato un paio di consigli, cose molto pratiche da fare giornalmente e soprattutto un piano di allenamento molto strutturato, molto carino, per quanto molto semplice. All'inizio ero un po' scettico perché comunque arrivavo da allenamenti completamente diversi, la palestra era un mondo per me sconosciuto, ma pian piano ho cominciato a vedere i primi risultati, ho cominciato a fare le mie cose e in pochissimo tempo ho veramente riscoperto muscoli che tra virgolette non sapevo neanche la loro esistenza. Dopodiché ho studiato, mi sono appassionato a questo mondo e dopo un annetto da quando ho conosciuto Giuseppe sono diventato addirittura il suo collaboratore, quindi molti di voi mi conosceranno, sono Marco, personal trainer e collaboratore di Giuseppe e questo è il mio prima e dopo. Ciao ragazzi! Grazie a tutti! Grazie a tutti!